Quando accediamo al nostro registro personale, stiamo parlando con noi stessi della nostra forma più alta, nella forma del nostro divino che sa dove portarci. Aprire registri akashi c'è un'esperienza molto avvolgente, molto accogliente, dove ci si sente sempre a posto così come si è. Non esiste giudizio, non esiste la derisione, esiste solo l'amore incondizionato rivolto a noi stessi, che è una dimensione a cui non siamo abituati. Ci sono delle domande importanti che facciamo a registro akashico, ci risponde per quello che possiamo contenere, quello che dobbiamo sentirci dire per capire un po' di più, per essere un po' più solidi, per essere un po' più sulla strada, per sapere che siamo sulla strada giusta. Quello che ci arriva è esattamente ed esclusivamente quello che possiamo contenere in questo momento. arrivano magari alcune parti di verità che possiamo processare e magari dopo un po' ne arrivano delle altre sullo stesso tema che possiamo continuare a mettere insieme. Per me aprire il registro di qualcuno, io sono un'elettrice da un po' di anni, è sempre un momento veramente importante, un momento da celebrare ed io sono onorata ogni volta che qualcuno mi chiede di fare l'apertura, perché è un prendersi per mano ed entrare in una dimensione che è una dimensione toccante, palpitante, viva, presente, dove ci sono tutte le nostre fragilità, dove non ci sono nascondimenti, ma non c'è giudizio, non c'è bisogno di nascondere nulla. Quello che è, è perfetto. Quindi comprendere alcuni dolori, alcune esperienze, anche quando noi siamo dalla parte che non vorremmo essere, no? Noi siamo sempre le vittime, è sempre colpa degli altri, ma tante volte siamo noi, no? A fare delle cose. Ti senti amato lo stesso, va bene così.